Se sei un frantoiano interessato a produrre il miglior olio extravergine della tua vita seguimi adesso in frantoio e con il nuovo corso online della Masters of Olive Oil Academy potrai comodamente da casa tua apprendere tutti i segreti per produrre un grande olio quell'olio extravergine che ti serve per stare sui mercati del terzo millennio iscriviti adesso, i posti sono invitati, ci vediamo al corso, ciao a presto!